Cosa vuole dichiarare della metteria della vaga? Che non c'era nessuno, che voi stavate facendo un posto di blocco per casa? Stavamo uscendo dalla sezione... Sì, sì, allora voglio dire che ci sono tante altre auto qua intorno che sono in sosta e non sono montate. Ma che sono in via? Sì, sì, quella in corrispondenza dell'intra ci si. La via è deserta, è un divieto che c'è, vuole firmare. Se vuole, è ricevuta anche una copia della vitina. La copia la vuole? Sì, sì, grazie. Tanto sappiamo come lavorate. A lei, buonasera. Qual era il problema? Si deve andare in controsenso qua che non c'è nessuno. Il problema è di andare in controsenso. Qual è il problema? Invece quando tagliate voi la strada ai cittadini... Prego, buonasera signor Di Marco. Ciao. Ciao lo dice a sua sorella, buonasera. Ah sì? Lo dice a mia sorella? Sì, ciao. Il suo collega mi ha dato del tu a me. E cosa ne frega? Io gli ho dato del tu? Le ho dato del tu forse? No, e allora mi dia di lei come io rispetto lei, lei rispetta me. Può anche andare. Può anche andare. Buonasera signor Di Marco. Buonasera signor Di Marco. Buonasera signor Di Marco. Buonasera. Buonasera signor Di Marco. Ciao. È stato un piacere. L'ha fatta per piacere. L'ha fatta per dovere e poi è diventato un piacere. Può andare. Buonasera signor Di Marco. Sei molto professionale. Bravo. Buonasera.